Con Return to Monkey Island, Ron Gilbert riprende in mano la sua serie culto. Riesce così a proseguire una storia che non era mai riuscito a chiudere come avrebbe voluto, venendo finalmente a patti con un passato terribilmente ingombrante. Come era licito attendersi, Return to Monkey Island è un'avventura punta e clicca classica. Guybrush Tripwood, protagonista assoluto della serie, torna per cercare di mettere le mani una volta per tutte sul segreto di Monkey Island. In realtà il gioco non inizia da Melee, ma dal parco giochi dove si era concluso il secondo capitolo, una sequenza tutorial in cui vengono riannodati i fili con i capitoli precedenti, spiegando quel criptico finale i successivi passaggi della serie. In termini di meccaniche di gioco e di interfaccia, Return to Monkey Island non si discosta in nulla dalla tradizione del genere. I movimenti sono gestiti con un sistema punta e clicca, così come la raccolta e l'esame degli oggetti interattivi. Nell'inventario si possono esaminare o combinare gli oggetti posseduti, oppure li si può utilizzare con gli oggetti dello scenario. In termini di interfaccia ci sono diverse semplificazioni ormai standard per le avventure punta e clicca, come il tasto per visualizzare tutti gli oggetti interattivi presenti nello scenario, quello per saltare i dialoghi e quello per rileggere le ultime conversazioni. Il doppiaggio è solo in inglese, ma è possibile attivare i sottotitoli in italiano, visualizzati a schermo in testa ai personaggi. Purtroppo, in alcuni casi, fortunatamente rari, i testi sono così lunghi da finire per coprire anche i personaggi. Poco male, visto che è un piacere leggerli. Volendo ci sono anche un paio di extra, legati a degli oggetti specifici. Una raccolta di carte quiz con domande relative al gioco e un libro dei consigli, che è praticamente la soluzione dell'avventura sotto forma di suggerimenti sempre più precisi, pensati per supportare tutti quelli che non amano rimanere bloccati. Da questo punto di vista, Return to Monkey Island appare modernissimo nel non voler frustrare in alcun modo il giocatore. Oltre al libro dei consigli, infatti, è possibile selezionare anche una modalità semplificata alla stregua di quanto avveniva in Monkey Island Duel Chuck's Revenge, che praticamente consente di seguire la storia senza alcun intoppo. Scegliendo la modalità completa, invece, bisognerà risolvere i classici puzzle da avventura grafica. Parlando proprio dei puzzle, non ne abbiamo trovati di troppo complessi o di insormontabili, tanto che siamo giunti alla fine in circa nove ore. In generale, seguono tutti una certa logica, con forse qualche ripetizione di troppo tra chiavi da trovare e tra vestimenti da indossare. Non aspettatevi comunque il surrealismo di un pollo con carrucola o di un scimmia di pietra altrettanto grande, perché Return to Monkey Island è in un certo senso molto più legato alla logica comune, pur con qualche benvenuta fuga verso il fantastico. Lì dove il gioco di Terrible Toy Box risalta particolarmente è nelle situazioni e nei dialoghi, aspetti in cui la mano di Gilbert e Grossman è evidentissima, anche se verrebbe da dire che siamo più dalle parti di Timberwood Park che del periodo Lucas. Molti riferimenti a fatti reali, anche se sempre interpretati dentro i confini dell'immaginario di Monkey Island. Ci sono tante situazioni spassose e di dialoghi brillanti, che da soli valgono il prezzo del biglietto e che riportano ai fasti del genere. Uno dei motivi per rigiocare tutta l'avventura almeno una seconda volta è quello di selezionare delle risposte alternative nei dialoghi a scelta multipla per scoprirne gli effetti sull'interlocutore di turno. Return to Monkey Island dialoga in continuazione con il suo passato, a volte in modo polemico, altre con una grande malinconia. L'impianto narrativo è incentrato su una visione nostalgica e dissacrante allo stesso momento, in cui il racconto parte da una rievocazione perché consapevole di non poter più essere vissuto al presente. Gilbert è cosciente che siano passati 30 anni. Lui come autore è profondamente cambiato e necessariamente anche il personaggio lo è, anche se apparentemente non lo dà a vedere. L'industria dei videogiochi è completamente diversa da quella di allora, così come lo sono i giocatori. Quello delle avventure grafiche è diventato un genere marginale, amato da una ristrettissima nicchia di persone, con le nuove uscite che non destano più alcuno scalpore. Così tutti i personaggi sono in qualche modo diversi e sono andati avanti, seguendo il loro percorso di vita, lì dove solo l'eroe sembra rimasto ancorato alle sue ossessioni giovanili. La storia lavora quindi su più livelli. Da una parte c'è la ricerca del segreto di Monkey Island, vissuta in superficie e che è un che di adolescenziale. Dall'altra c'è il rapporto tra la serie, il suo autore e i giocatori stessi, che si sviluppa in modo sotterraneo fino a deflagrare nella parte finale. Guybrush si trasforma nella metafora del fan e del suo rapporto con la nostalgia e con il genere, in un continuo fraseggio tra racconto e meta-racconto. Le molte citazioni dei capitoli precedenti evitano il compiacimento dei fan per diventare dei momenti di presa di coscienza, arrivando a giocare addirittura con la morte. Un discorso a parte merita il tanto chiacchierato stile grafico. Riproporre uno stile in pixel art non avrebbe avuto molto senso per Gilbert. L'averlo fatto con Timberweed Park fu una scelta dettata dalla volontà di celebrare il genere e vendere il progetto su Kickstarter agli appassionati. Fare lo stesso con Return to Monkey Island sarebbe stata solo una scelta conservatrice, che avrebbe parlato solo ai fan storici della serie. Puntare a uno stile simile ma più moderno, come fatto con le edizioni speciali dei primi due capitoli, avrebbe potuto portare a risultati anonimi, quanto disastrosi. Si è quindi preferito optare per qualcosa di unico, che riflettesse la natura della serie, ma che guardasse avanti. Il risultato è al tempo stesso ispirato e caratterizzante. Dopo lo shock iniziale, la grafica inizia a funzionare alla perfezione. Lo stile spigoloso dei disegni, che regala al tutto un tocco vagamente astratto, risalta in più di un'occasione. Per esempio lo fa nei primi piani dei personaggi, dando una forte carica espressiva ad alcune scene. A qualcuno non piacerà, ovviamente, ed è anche giusto che sia così. Molto dipende dalla capacità di leggere il cambiamento visuale nel quadro più generale della reinterpretazione del franchise. Noi lo abbiamo apprezzato per la forte personalità. Lo stesso si può dire della colonna sonora, che riprende i brani classici, risuonandoli in chiave moderna e giocando con gli stessi lì dove possibile. Return to Monkey Island è esattamente il gioco che ci si poteva attendere da Gilbert e soci, dove l'amore per i personaggi e le loro vicende si sposa con una profonda riflessione sul tempo e sul ruolo del giocatore. È una storia su chi è riuscito ad andare avanti e chi è rimasto legato alle sue ossessioni, su chi è maturato e su chi è solo cresciuto, rimanendo però imprigionato nel suo immaginario. In questo senso stiamo parlando di un'opera riuscita, sicuramente essenziale per gli appassionati di Monkey Island, che pecca solo per qualche ripetizione nei puzzle, comunque ben fatti nel loro complesso. Insomma, è tempo di tornare alla ricerca del segreto di Monkey Island. E voi che aspettative avete per questo ritorno a Monkey Island? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su sito, social e ovviamente qui su YouTube. Qui accanto alcuni suggerimenti che possono interessarvi. Grazie e alla prossima!